Per noi Subaru è vivere insieme ogni avventura. Io mi ci sono accostato per caso, perché dovevo prendere una macchina sostitutiva per mio figlio. Mi è ritornata la memoria dove vedevo queste Subaru nei rally e così è nata questa passione. Sono riuscito a conoscere degli amici, possessori di Subaru, anche loro. Ho coinvolto anche la mia famiglia, praticamente siamo riusciti a fare tutti i raduni che Subaru For Fun ha realizzato in questi ultimi due anni. Subaru Driving School è una cosa meravigliosa perché ho qualche competenza in più. Cioè riesci comunque a provare e a capire, a vivere che cosa ti sta accadendo in una situazione di totale sicurezza. I raduni sono uno più bello dell'altro. Ci si incontra con persone fantastiche, perché ci sono tantissime persone che sono unite da una stessa passione. Allora, tante volte ci si dà appuntamento dove è la zona di ritrovo e poi da di lì si parte con il percorso del weekend o dei tre giorni. Viene proprio consegnato un radar. Abbiamo già tutte le coordinate, però in realtà si va a vista. Non è un correre, è un piacere di guardarsi intorno. Si è sempre in carovana, si è sempre molto tranquilli, a contatto con la natura, con un po' di relax e tranquillità. Abbiamo portato anche altri nuovi amici, come si usa dire, che avevano già Subaru anche loro, ma non sapevano dei raduni che esistesse tutto il mondo Subaru dietro. non è solo la macchina venduta per strada. No, facciamo proprio i veri e propri raduni. Oltre alle location molto belle, è un bel mondo perché siamo fratelli.